ciao a tutti oggi prepareremo i pizzicotti al cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono biscotti secchi cioccolato fondente latte e zucchero a velo diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7 mettere da parte senza lavare il boccale mettere il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola far sciogliere per 5 minuti 50 gradi velocità 3 aggiungere i biscotti il latte ed amalgamare per 30 secondi a velocità 4 compattare il composto e formare una palla formiamo adesso i pizzicotti prendiamo un pezzetto impasto compattiamolo e passiamolo nello zucchero a velo posizionare su un vassoio e procedere così per il resto dell'impasto riporre in frigo per 15 minuti prima di servire pizzicotti al cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.